E' quasi ora di pranzo, siamo ancora nello stand Ingo Maurer e veramente al dente è una lampada che non può mancare. Ingo Maurer veramente ci stupisce ogni volta ed anche se noi siamo cultori del lighting designer funzionale, questa lampada ci lascia a bocca aperta perché è in piano stile Ingo Maurer e questo ci piace da sempre. Non state sognando, sono proprio un piatto di spaghetti con il sugo, in piano stile italiano diremmo, con alla base una cascata di forchette, coltelli, cucchiai e una base realizzata con un piatto rovesciato. Beh che dire, luce non la fa, ma mette appetito. Anche per questa video preview per il momento è tutto, Andrea Mini vi saluta da videorecensionilampade.com. Ciao!